Tutto quello che vedi e tutto quello che leggi, tutto quello che ti capita di vivere nella vita diventa comunque materiale per i tuoi figli. Ma io in questo film, come in tutti i film che voglio fare, me ne voglio strafregare della logica o del buonsenso. Nel momento in cui sono in una sala cinematografica, la realtà per fortuna diventa qualcosa di più bello, di migliore, di diverso. Cerco di raccontare i film come se fossero un romanzo dell'Ottocento. Allo stesso tempo, questo è un film che, scusate la brutta parola, ma io ho voluto vomitare. Nel senso che ho tirato fuori proprio tutta la forza sentimentale di cui ero capace. Ci sono dei momenti in cui si è magari costretti a seguire delle altre strade, ma bisogna cercare sempre di combattere per fare il cinema che si ama, come bisogna cercare di combattere per fare le cose che si amano. Fare il cinema soprattutto, il teatro, fare questo lavoro è un lavoro di squadra. E stare sul set comunque vuol dire tutte e due lavorare a un progetto comune. Quindi non ci sono ruoli di serie A o di serie B. Siamo tutti uguali, siamo tutti lì per realizzare una cosa, si spera, bella. Grazie. 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 Grazie.